Buongiorno, sono qui con il signor Michele che è l'ufficio tecnico o responsabile tecnico di una delle aziende leader della provincia di Foggia, Rosso Gargano, che si occupa della produzione e trasformazione del pomodoro rosso lungo. Buongiorno, il signor Michele e l'azienda Rosso Gargano, tra tanti produttori di automazione sia in Italia che all'essero, ha deciso e ha scelto la Garver, divisione del taglia e in particolar modo i prodotti della Solem per automatizzare i suoi impianti. Ora chiedo a Sio Michele, perché questa scelta? Allora, noi cercavamo come azienda del gruppo Rosso Gargano una serie di centraline, quindi un sistema per la corretta gestione dell'acqua. Abbiamo trovato nella Solem e nel signor del taglia il giusto compromesso per gestire al meglio i nostri ettari di pomodori e per portare sulle tavole dei consumatori il miglior prodotto possibile. Allora, quanti ettari gestiti attualmente su Michele? Al momento gestiamo 265 ettari di pomodoro lungo. E che tipo di vantaggio sta avendo utilizzando i prodotti della Solem per automatizzare i diversi ettari di pomodoro? Risparmio idrico, quindi quantità spropositate di acqua che prima venivano utilizzate, ora vengono contenute, quindi costi dell'irrigazione contenuti. Migliore gestione di acqua significa anche risparmiare con cima, che non viene dilavato nel terreno. E poi come centraline, noi utilizziamo centraline e antenne della Solem, facile installazione, semplice proprio in tutto. Un'altra domanda che faccio a Sio Michele. A livello di supporto tecnico che riceve dal taglia, cosa può dire? No, i signori del taglia sono eccezionali dal punto di vista tecnico, quindi in qualsiasi momento sono pronti a rispondere, a dare supporto all'azienda. Quindi la domanda che vi viene da fare, continuerà a utilizzare i nostri prodotti? Continuerà a collaborare con l'azienda Garve, la divisione del taglia? Certo, continueremo e metteremo più altre di pomodori, quindi più centraline, più antenne e più sensori. Grazie, Sio Michele. Buongiorno.